Se volete acquistare crediti o FIFA points a prezzi bassissimi passate da MMOROG Link del sito in descrizione e con il codice Henry avrete il 6% di sconto Buongiorno ragazzi sono Henry Lazz, bentornati in questo nuovo mio canale Oggi ragazzi siamo qui tornati con il sesto episodio del FIFA Monopoly Nonché il nuovo stage, nuovo stage che ha visto aggiunte di nuove caselle Prima di partire ragazzi però vi chiedo subito 400 mi piace Se volete vedere settimana prossima un nuovissimo episodio Il base player di questo stage sarà proprio lui signori Daniel Starridge L'ha pagato 51.500 crediti quindi come l'altra volta Pialis quindi sui 50.000 crediti nel base player E infatti con la grafica che vedete in questo momento sono ad aggiungere nella penitenza Nella casella numero 7 la penitenza di mangiare cibi schifosi Poi ad esempio nella casella numero 3 di vendere il base player E insomma queste qui sono un po' le caselle nuove che ho messo Poi mano a mano che faremo lo stage andrete a scoprirle tutte Quindi ragazzi condividete al massimo questo video sui vostri social Per far conoscere a più gente possibile questa serie Come al solito passate qui sotto nella descrizione Nella descrizione i miei video di canale L'attimo in crimini, i miei video di crediti, MMO Con un goccio e arrivate a 6% di sconto Quindi ragazzi a me non è stato altro da dire E andiamo dentro con la grafica Ok eccoci qui Primo lancio di questo primo stage Andiamo numero 1 Si parte con numero 1 Eccolo qui Acquisto abbiamo scritto Acquistare una carta speciale Come carta speciale signori ho deciso di andarmi a rafforzare Prima di tutto là dietro in difesa Quindi direi di andare su un bel matip Nella versione scream Quella la di Halloween Direi di andare questo qui a 41.000 crediti Ok preso E andiamo a mettere al posto del nostro Vediamo qui Del nostro rice Quindi ragazzi la squadra assume questo cambiamento Praticamente con matip qui in difesa E basta Dunque ragazzi andiamo con il secondo lancio Vai 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 Numero 2 Eccolo qui signori Il 2 Che è 1, 2 Mini search and discard Ok mini search and discard Quindi dobbiamo andare a scartare il numero 2 Il pacchetto numero 2 Il pacchetto numero 4 Ovviamente li facciamo con i pacchetti da 7.500 Quindi Primo pacchetto dobbiamo ottenercelo Non è un walk out È oro raro però Di inglese Vardy Oh mio dio Vardy Vardy Signori Vardy Costa Vardy Costa 40.000 crediti Signori Ma ce lo andiamo a mettere in rosa Immediatamente Che culo Che culo Porco Due signori È posto di lower Quali cazzo Partiamo subito Bene con questa mini search and discard Dunque il primo pacchetto Questo Dobbiamo scartarlo Vediamo Orrano di nuovo Td PSV Chi è? Arias Purtroppo dobbiamo scartare tutto Terzo pacchetto Questo lo teniamo Vediamo Non è walk out Neanche adesso Però ancora Oro raro ATT Muriel Muriel della Sampdoria Direi che ci sta Muriel Vediamo se possiamo venderlo a qualcosa Muriel Sti gran cazzi Facciamo Vediamo se lo prendono a 900 Poi teniamo tutto Questi consumabili Ultimo pack Vi prego Non dammi walk out Qui ok Walk out Non è Però è ancora Aurora ATT Francese Del Lille Che è Deprevel Deprevel Che cazzo è Qui possiamo scartare Quindi ragazzi Siamo andati anche in guadagno Su questa mini search and discard Perché abbiamo trovato Vardy Che viene 40.000 crediti Terzo lancio Vai 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 Numero 5 Eccolo qui rega Il numero 5 Che è 12345 Acquista Un inform Quindi Andremo a prendere anche il primo If della nostra squadra Insomma E' anche difficile Trovare inform Buoni Nella BPL In quanto Costano tutti davvero davvero Tanto Dunque ragazzi Come if Vado a prendermi All lane Del Dello stock city E lo vado a piazzare A metà campo Al posto di Vediamo qui Come Al posto di field Anzi no Field è il più forte Che cazzo Vado a prendere field Facciamo al posto di O'Neill E di conseguenza Lo vado a mettere Qui come mediano Al posto di Appunto field Dunque ragazzi Andiamo con il quarto Lancio Vai 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 Numero 2 Eccolo qui ragazzi Il 2 Che è 1-2 Partita Ok La squadra ragazzi E' questa E andiamo a cercarci Una partita Singola Ok Siamo contro Una Boh Che cazzo Boh Una squadra Ibrida Tra virgolette Comunque messa a caso Ok Subito Stars Che aggredisce Ma è un po' Pallo Ma che cazzo Ma che problemi ha questo Cioè si fa un autogol Così Vabbè Vabbè Se gioco contro Uno così Che fa Ste cazzate No Che due Coglioni Ma perché Do trovare Sempre io Ste partite Dai Quinta Dai Quinta Uno Bravo Bravo Vabbè Ci siamo giocati Una partita così Easy Easy Mille crediti Con il bonus Quella che ti danno Nel catalogo Di esport Siamo arrivati Il quinto Lancio Vai 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 Numero 6 Eccolo qui Ragazzi 6 Che è 1 2 3 4 5 6 Primo Ah Questa qui è anche Una nuova casella Che mi sono indicato Di dirvi Ovvero quella di andare a prendere Il primo giocatore Della lista Trasferimenti Insomma Come la serie Che porta Fuse Dunque mettiamo Premier League Cerchiamo Il giocatore Uh Alli Delle Alli Ok C'è andata anche bene Potrebbe capitarci Un bronzo Ok Andiamo a prendere questo Alli 7 contratti 90 Te pareva Questo Ok L'abbiamo preso È uguale 7 contratti 99 Forma fisica E lo andiamo a piazzare C o c Al posto di Brown Dunque ragazzi Siamo arrivati qui All'ultimo lancio Andiamo 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 Numero 3 Eccolo qui signori Il numero 3 Che è 1 2 3 Apri un pack Speciale Questa volta Come pack speciali Prima mi sembra di aver visto I pacchetti Da 25.000 crediti Quindi Andiamo con un pack Da 25k Non ha laggato Quindi non è Un walk out Vabbè Aurora CDC Fernandinho Oh no Fernando Scusate Fernando Però ci sta bene Lo stesso In quanto È uno della Berkley's Premier League Quindi possiamo Metterlo Al posto Di Davis E poi Scambiare Allen Con Fernando Ok Conci qui Nella schermata Della squadra Facciamo questa cosa Quindi ragazzi Questo video Finisce qui Io spero Vi sia Piaciuto Come è stato lasciate Un bel lega ragazzi Arriviamo a 400 Mi piace Se volete vedere Anche settimana prossima Un nuovo episodio Del monopoli Vi ricordo Di condividere A mannetta Questo video Passate qui sotto Nella descrizione Per il mio sito Di credit MMO Con il mio canale E arrivate 6% di sconto E anche per tutti i canali Dell'Hacky With Crew Iscrivete al canale Se non ancora fatto Che dire ragazzi Qui da ragazza Tutto Oh bec